Possiamo simulare il lotto con una rete di petri? Vediamo. Qui sono quattro amici che giocano al lotto ogni settimana. Tutti hanno dieci euro. Allora, giocano e uno vince il jackpot. E adesso mettiamolo in autoplay. Il gioco del lotto è fortemente non equo. Ah, Francesco non ha più soldi.